Ciao, io sono Chiara e sono un exchange student che in questo momento si trova in Irlanda per il suo anno all'estero. Uno dei motivi principali per cui ho scelto l'Irlanda sono appunto i paesaggi irlandesi e questa è la vista dalla mia fase irlandese. Fare l'anno all'estero è stata una delle decisioni più belle che ho preso nella mia vita, ma per questo oggi voglio rilancarvi i 5 motivi per cui dovreste decidere anche voi di fare questa esperienza. Motivo numero 1, è una buona occasione per praticare il tuo inglese e migliorarlo, che ormai è importante per il futuro. Motivo numero 2, avrei l'opportunità di provare un sacco di nuove esperienze, per esempio per gli sport, e qui in Irlanda è molto famoso il calcio baelico, uno sport appunto irlandese che in Italia non c'è. Motivo numero 3, creerai un'altra vita in un altro paese, facendo un sacco di nuove amicizie e conoscendo persone da tutto il mondo. Motivo numero 4, durante l'anno all'estero maturerai in sacco, infatti ti troverai in nuove situazioni che imparerai ad affrontare. Motivo numero 5, inizierai a diventare più indipendente, viaggiando e visitando posti nuovi. Motivo numero 5, inizierai a diventare più indipendente, viaggiando e visitando posti nuovi.